Convegno sul PNRR nella sede della Guardia di Finanza a Roma partecipa il ministro Raffaele fitto per il quale non si possono mancare gli obiettivi di dicembre. Il presidente nazionale del Lanci Antonio De Caro intanto incontra il ministro della giustizia Nordio. La regione Puglia chiederà al ministero del lavoro di prorogare la cassa integrazione dei 118 lavoratori Baritec solo per il tempo necessario a chiudere la trattativa di reindustrializzazione. Il Digital Solution Center Pirelli invece apre le sue porte a Bari con un organico da 50 unità entro il 2025. Vertice in prefettura a Brindisi per garantire maggiore sicurezza ai cittadini in vista delle festività natalizie. Verranno intensificati i controlli. Nuovo appuntamento con l'informazione interregionale di Antena Sud ben ritrovati. Apertura dedicata ai temi politici ed economici perché a Roma c'è stato un convegno sul PNRR ospitato nella sede della Guardia di Finanza. Vi ha partecipato il ministro Raffaele Fitto che ribadisce non si possono mancare gli obiettivi di dicembre. Visione è questa la parola che circola nella mente del governo sul tema del PNRR e da confermarlo il ministro Raffaele Fitto titolare della delega lo fa a margine dell'intervento del convegno annuale sul PNRR nella sede della Guardia di Finanza. Assicurare l'obiettivo del 31 dicembre è la priorità perché non possiamo permetterci, dice, di non centrare questo risultato sugli obiettivi di dicembre. L'intero governo è impegnato dalla cabina di regia ai singoli ministeri ma la nostra proiezione è al 2026 e per quello la lettura del programma nel PNRR ci indica la necessità di una valutazione ambito per ambito per comprendere dove per ragioni oggettive, dice, visto che è stato scritto prima della guerra ci sono difficoltà dovute ad esempio ai costi di energie e materie prime. L'obiettivo è quello di monitorare lo stato della spesa della coesione per quanto ci riguarda come paese anche del fondo di sviluppo di coesione e per quanto riguarda complessivamente le proiezioni del piano nazionale di ripresa e resilienza. Per far questo è chiaro che bisogna lavorare con la Commissione europea, evitare le polemiche e far parlare i numeri che sono gli elementi che oggettivamente ci aiutano a capire la direzione di marcia. Per il Presidente del Lanci Antonio De Caro, voce dei sindaci d'Italia, la richiesta è quella di semplificare e snellire le procedure. Quando arriviamo all'itera autorizzativo spiega nel suo intervento i tempi si rallentano e si rischia di non arrivare al 2026. Resta il tema delle autorizzazioni perché quando arriviamo all'itera autorizzativo nonostante le semplificazioni che sono state già fatte i tempi si rallentano e rischiamo di non arrivare al 2026. Però devo dire che con il precedente governo ma anche con questo governo c'è una forte collaborazione nell'interesse di tutti. L'interesse del Paese è quello nel 2026 di avere un Paese più giusto, più moderno e più efficiente. Nella sala economica della sede della Camera di Commercio di Potenza invece è stato presentato il rapporto Svimez 2022 sull'economia e la società del mezzogiorno. Anche se l'Italia continua a crescere più della media europea continua a riaprirsi la forbice di crescita tra nord e sud e di questo ne risente anche la Basilicata che ha fatto registrare un'economia più reattiva nelle ripartenze ma più vulnerabile nella fase recettiva come quella attuale. A rischio sono le fasce più povere della popolazione che Svimez stima possano crescere di 287 mila unità per un quadro complessivo allarmante di oltre 750 mila individui a rischio di povertà. Preoccupante poi per il quadro lucano il dato relativo allo spopolamento e all'esodo dei giovani. Negli ultimi 20 anni sono circa 1,2 milioni i giovani che hanno lasciato il mezzogiorno. 36 mila lucani di cui uno su tre è laureato. Noi stimiamo per il 23 un meno 0,4 quindi diciamo una piccola recessione anche per la Basilicata in linea col mezzogiorno e poi una ripresa nel 24 intorno all'1% di crescita. Un peccato perché la Basilicata aveva incrociato la ripresa post-Covid in maniera rilevante nel senso che aveva avuto tassi di crescita soprattutto nel 21 e devo dire anche nel 22 abbastanza buoni che avevano consentito di recuperare quanto perso nel Covid. Ahimè la gelata per effetto della guerra in Ucraina nel conseguente impatto inflazionistico ha fatto in tutto il mezzogiorno ha fatto i suoi impatti più rilevanti. Il segnale che viene da questa giornata è prima di tutto di una conoscenza dei dati e dei numeri che è una base informativa molto importante e dall'altro una spinta ad un utilizzo efficace e veloce dei fondi del PNRR e di quelli che derivano che deriveranno dalla nuova programmazione europea. La Regione Puglia chiederà al Ministero del Lavoro di prorogare la cassa integrazione dei 118 lavoratori Baritec solo per il tempo necessario a chiudere la trattativa di reindustrializzazione. L'annuncio arriva dal Presidente Michele Emiliano che ha incontrato il presidio fisso dei lavoratori Baritec davanti ai cancelli dell'azienda nella zona industriale di Bari. Il 31 dicembre scade la cassa integrazione guadagni ma al momento non ci sono novità sul futuro del sito industriale. Ci sono trattative in corso per la vendita e tre sono le imprese interessate a rilevare capannoni produttivi e operai ma al momento non si è concretizzata nessuna offerta. Abbiamo visto il Sindaco di Bari e Presidente Nazionale del Lancio Antonio De Caro era a Roma ha incontrato anche il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il suo vice Francesco Sisto. Il tema è stato quello della responsabilità dei sindaci. Non esiste un reato di ruolo, dice De Caro. Non vogliamo l'immunità né l'impunità ma nemmeno un trattamento di favore ma sapere quali sono le regole da rispettare in maniera rigorosa. Sentiamo l'intervista. I sindaci come ho ribadito al Ministro non chiedono né l'immunità né l'impunità nemmeno un trattamento di favore. Vogliamo delle regole chiare che vogliamo rispettare con rigore poi se un sindaco sbaglia secondo me deve pagare anche più degli altri perché la sua funzione è legata al consenso che ottengono dai cittadini i sindaci però non si può essere responsabili per qualunque cosa accada all'interno di un comune per il solo fatto che sei sindaco. È come se ci fosse un reato di ruolo che non è previsto dall'ordinamento giuridico del nostro paese. Il Nordio ci ha detto che vuole fare, era convinto più di noi, mi fa piacere che il Ministro e il Vice Ministro che sono un magistrato e un avvocato penalista condividono i timori dei sindaci rispetto alle responsabilità. La manovra del governo Meloni è stata anche al centro del Consiglio Generale della CISL Puglia chiediamo più risorse per le famiglie, commenta il segretario generale della CISL Puglia Antonio Castellucci. Una riunione ad hoc organizzata da CISL Puglia per fare il punto sulla legge di bilancio in ordine alle eventuali iniziative da intraprendere per migliorarne i contenuti. Segretario, in caso specifico che cosa non vi convince della manovra di bilancio? La cosa che più di tutte vi preoccupa e quale invece approvate e trovate giusta? Sicuramente rispetto all'emergenza sui 35 miliardi circa della manovra 21 sono dedicati ad aiutare le famiglie così come l'allargamento per esempio dell'ISE per il bonus energia. Certo potrei citare per esempio opzione donna che non ci convince perché noi ci auguriamo appunto che nell'incontro della settimana prossima si possa far fare al governo un passo indietro e ripristinare la norma così come era il 31 dicembre. Ma su tutta la questione delle pensioni e così come anche della riforma fiscale noi abbiamo necessità di mettere in tasca dei lavoratori ma dei cittadini risorse in più. E quindi dal taglio del cuneo fiscale che sicuramente rispetto a quello che è stato fatto è importante ma chiediamo di più come sulla decontribuzione non è sufficiente oppure sulla detassazione degli accordi sindacali. Ma sicuramente noi abbiamo necessità di trovare un sistema per dare più risorse alle famiglie italiane. Infine il tavolo chiesto alla regione per fare chiarezza sulle criticità rilevate dal Ministero dell'Economia in Puglia. Abbiamo letto di un rischio commissariamento e ci dovremmo incontrare il 13 mattina prossimo. Ma non è solo la questione della sanità, c'è tutto il pezzo che riguarda il PNRR perché abbiamo necessità di poter spendere quelle risorse nel miglior modo possibile. Noi abbiamo necessità di un confronto costante con la regione Puglia che, ahimè, purtroppo non c'è. La crisi che ha travolto le 145 aziende dell'indotto di acceglierie d'Italia a Taranto preoccupa i sindaci dell'Unione dei Comuni Montedoro che si sono riuniti in Consiglio per discutere dell'argomento. 2.000 le famiglie della provincia che sono già in difficoltà. Molti abitanti di Carrosino sono dipendenti dell'Ilba quindi sicuramente parliamo di qualcosa di importante che ci riverbera anche sull'aspetto economico dell'intera comunità carossinese. A Monteparano abbiamo circa il 30% delle famiglie in cui vi è almeno un operaio dell'Ilba e quando comunque il problema è del 30% dei cittadini in realtà si ripercuote anche sull'altro 70%. Oltre 2.000 famiglie della provincia di Taranto devono il proprio sostentamento ad acceglierie d'Italia e di sindaci dei comuni membri dell'Unione Montedoro riuniti dal presidente Antonio Cardea in un consiglio monotematico avente ad oggetto proprio la crisi che ha travolto le 145 aziende dell'indotto concordano sul fatto che la situazione attuale rappresenti un serio pericolo per l'economia dell'intero territorio ionico. Il ricatto occupazionale perpetrato dalla ditta nei confronti di migliaia di famiglie l'amministrazione di Sava, i cittadini di Sava, i consiglieri, gli assessori sono tutti vicini a loro. Sicuramente è una vicenda molto grave e che riteniamo opportuno sensibilizzare come sta facendo l'Unione dei Comuni questa sera attraverso un punto monotematico. Ci auguriamo che nel prossimo futuro questa questione possa essere affrontata e soprattutto può essere tracciata una linea che porti nel più breve tempo possibile a una soluzione condivisa e duratura. Il consiglio cosa ha deliberato? Sì, il consiglio questa sera abbiamo deliberato questo, cioè che invieremo la nostra delibera di consiglio al prefetto, al presidente della provincia, al governatore della Puglia, al governo, alle parti sociali, per sensibilizzare affinché si risolva questa situazione, perché, ripeto, siamo molto ma molto preoccupati di queste oltre 2.000 famiglie. Dopo l'annuncio a maggio scorso, il Digital Solution Center Pirelli apre le sue porte a Bari con un organico da 50 unità entro il 2025. 11 dipendenti destinati a diventare almeno 50. Da qui al 2025 è un investimento strutturale pari ai grandi centri del mondo. Bari apre le sue porte al nuovo Digital Solution Center Pirelli, il primo centro di sviluppo interamente focalizzato sull'innovazione digitale, nato con l'obiettivo di arricchire le competenze interne sulle aree più strategiche per Pirelli. Il Digital Solution Center Pirelli, esempio di un impegno congiunto tra pubblico, privato e mondo accademico, era stato annunciato lo scorso maggio ed ora è diventato operativo. Tra le tecnologie su cui può contare il nuovo centro, l'Innovation Room, uno spazio che consente un vero e proprio co-working virtuale tra i dipendenti di Bari e le circa 500 persone del team Digital Pirelli a livello globale. Centro di innovazione e di ricerca e di sviluppo di soluzioni digitali che supporteranno il nostro core business, quindi la progettazione dei pneumatici, la produzione nelle fabbriche e tutte le attività di pianificazione strategica che facciamo. È un motivo di orgoglio per noi, vuol dire che si è lavorato bene come sistema universitario pugliese e in particolare qui a Bari. Avere ed essere con Pirelli insieme è sicuramente un segno virtuoso per l'intera regione. Spero che tutto questo grande sforzo che alcuni chiamano PNRR si comprenda che nasce da lontano e che permette oggi di avere un germoglio significativo come questo. Un po' come in tutti i settori, per esempio in sanità noi parliamo di medicina di precisione, cioè che si attesta al singolo paziente, che si conforma al singolo paziente. Queste tecnologie che qui vedranno 50 giovani pugliesi o comunque di tutto il mondo che verranno a lavorare qui serve a dare al processo industriale il massimo dell'approssimazione alla perfezione possibile. Manovra del Governo che è stata passata anche in rassegna dalla UNA-Graco, l'Unione dei commercialisti e degli esperti contabili, che sono in congresso nazionale a Bari. Una manovra che sicuramente non aiuta l'evasione fiscale, ma che proprio cominciando a prevedere delle riduzioni di fisco, un fisco più incentivante, parlo della tassa piatta incrementale, che permette a chi lavora un'ora in più sostanzialmente di pagare meno imposte. Cauti e aperture, ma anche la cassetta degli attrezzi per il prossimo futuro, il senso del congresso nazionale di UNA-Graco, Unione dei commercialisti e degli esperti contabili nel capoluogo, è l'occasione per passare in rassegna la manovra del Governo, della lotta all'evasione, alla riduzione del cuneo fiscale, passando per le agevolazioni a 35. D'altro canto, cita l'Istat, ad ottobre 2022, rispetto al mese precedente, crescono gli occupati e diminuiscono disoccupati ed inattivi, ma non basta, per dirsi al sicuro. La flat tax è importante, si viene ben strutturata, sarà una flat tax incrementale, quindi potrà portare maggior reddito, e quindi questo va bene per lo Stato, ma anche una riduzione della tassazione per i contribuenti. Guardate, il nostro è un paese in cui oggi le sanzioni, soprattutto in ambito fiscale, risultano essere sproporzionate rispetto alla violazione della regola per la quale poi quelle sanzioni vengono applicate. Il Governo sta lavorando anche a una rimodulazione dell'impianto sanzionatorio con una riduzione che sia proporzionata delle sanzioni. La cronaca con un altro incidente sul lavoro che si è registrato in Capitanata, è un operaio di 32 anni, è precipitato dal quinto piano di una palazzina in ristrutturazione ed è stato ricoverato in codice rosso presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Sarebbe ancora in pericolo di vita l'operaio 32enne di origini gambiane che intorno alle ore 10 del 2 dicembre è precipitato dal quinto piano di una palazzina in ristrutturazione in via Michelangelo a Foggia. L'uomo ricoverato in codice rosso presso il Policlinico Riuniti del capologo Dauno è regolarmente assunto dalla ditta per la quale lavora ma al momento non è chiaro se avesse indosso i dispositivi di sicurezza quando per causa è in corso di accertamento è precipitato dall'impalcatura sulla quale stava lavorando impattando sul tunnel in legno posto a protezione dei locali del piano terra in corrispondenza dell'ingresso di un supermercato. Sul posto, oltre ai carabinieri ai quali sono affidate le indagini del caso hanno operato i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo in pronto soccorso. Un'auto finisce in mare a Molfetta e la persona che era alla guida nell'abitacolo è morta la tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di venerdì nella zona del porto all'altezza del Faro l'auto, una utilitaria di grosse dimensioni, ha terminato la sua corsa in acqua resta però da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario per recuperare il corpo della persona deceduta a quanto sembra un uomo in età avanzata sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori di Bari gli uomini della guardia costiera e i carabinieri. Stando ad alcune testimonianze sembrerebbe che l'auto sia entrata nella zona del porto a velocità sostenuta senza rallentare e finita in mare. Inutili anche i primi tentativi di salvataggio da parte degli uomini della guardia costiera. C'è stato invece un incidente stradale sulla provinciale 81 Tuturano-Mesagne c'è stata anche una vittima, una persona di 78 anni in ospedale invece l'altro automobilista ferito che ha 31 anni. Un pensionato brindisino di 78 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto venerdì mattina alle 9 all'altezza di un incrocio che si mette sulla strada provinciale 81 Mesagne-Tuturano Nello schianto il giovane conducente dell'altra vettura è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. La vittima era alla guida di una Fiat Panda e proveniva da Brindisi. Al centro dell'incrocio l'utilitaria che si stava immettendo sulla provinciale è stata travolta da una Seat Ibiza proveniente da Mesagne. La Panda è stata ridotta a un ammasso di lamiere. Il pensionato è morto sul colpo e per estrarre il suo corpo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. La Seat Ibiza ha terminato la sua corsa in un campo confinante con la strada. Il conducente, un giovane di 31 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Perrino. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brindisi in quanto quel tratto di strada rientra nel territorio del comune capoluogo. Si avvicinano le festività natalizie e in prefettura a Brindisi c'è stato un vertice per discutere degli interventi che consentano di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Verranno intensificati i controlli. La rinascita post pandemia ha dato l'input anche al ritorno, purtroppo, delle attività illecite. Per questo, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, è necessario incrementare i controlli non solo nel capoluogo messapico, ma in tutti i centri della provincia. Ad affermarlo, il prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni. C'è stata anche una ripresa, era inevitabile, delle attività della malavita e quindi è necessario, non solo a Brindisi, ma su tutto il territorio nazionale, intensificare le attività di controllo coordinato del territorio, mirandole poi su alcune zone che sono particolarmente più esposte. Sono tre le linee di azione su cui si agirà per la sicurezza dei cittadini. Le tre linee riguardano innanzitutto dei servizi ad alto impatto, con posti di controllo nelle zone maggiormente colpite recentemente da attività di criminalità, Fasano in particolare, che subisce un pennolarismo criminale anche dal Barese. poi Ostuni perché è già sold out, si sa che sarà visitata da tantissimi turisti e Francavilla Fontana per i noti fatti che già conosciamo e su cui ci sono stati anche dei focus specifici. Particolare attenzione sarà posta anche alla viabilità. Abbiamo parecchi cantieri sulle strade principali che conducono a Brindisi e a Lecce, quindi abbiamo necessità di implementare questo, ma poi anche nei centri urbani che saranno ovviamente molto affollati per lo shopping e nel periodo delle feste. Ed infine le manifestazioni pubbliche che saranno attenzionate soprattutto per quanto concerne i fuochi pirotecnici. Non comprare fuochi d'artificio abusivi o illegali, di rivolgersi solo ai negozianti che sono autorizzati. Ci spostiamo a Giovinazzo in provincia di Bari perché c'è stata la cerimonia di intitolazione della caserma dei Carabinieri a Luciano Pignatelli. Il 4 dicembre del 1987 Luciano Pignatelli perde la vita ucciso brutalmente da criminali nel casertano. Giovane carabiniere aveva chiuso il suo turno, ma il suo spirito di servizio lo ha portato senza tentennamenti a dare la caccia ai fuggitivi. Luciano precipita con la sua auto in una scarpata dove i criminali lo uccidono dopo averlo raggiunto con numerosi colpi di pistola. 35 anni dopo il ricordo, con l'intitolazione della caserma dei Carabinieri di Giovinazzo, suo paese d'origine, la cerimonia si svolta alla presenza delle massime istituzioni militari, civili e religiose e con le scuole che hanno partecipato a un concorso dedicato a Luciano. Non è sterile l'esercizio della memoria, perché con la memoria, diceva lei nel suo discorso, si riporta la luce e il ricordo del coraggio e dell'impegno. Sì, oggi è una giornata importante, una bella giornata. Abbiamo intitolato la stazione Carabinieri di Giovinazzo alla memoria del Carabinieri Luciano Pignatelli. Sì, la memoria è importante, è importante perché ci aiuta non solo a ricordare, ma anche a cogliere l'essenza e il significato più autentico. del gesto e della vita di Luciano. Comandante, Luciano era giovanissimo. Un messaggio allora ai giovani di oggi? Luciano era un ragazzo giovane, pieno di entusiasmo, che amava la vita, amava la sua professione, amava la professione del Carabiniere. È molto bello che oggi siano intervenuti i ragazzi delle scuole, i bambini e i ragazzi delle scuole di Giovinazzo. A loro spetta costruire il nostro futuro e il nostro futuro si costruisce anche ricercando nel passato la memoria di esempi belli e nobili da seguire. La memoria serve a ispirare nobili azioni e sentimenti migliori nei cuori e nelle menti di chi guarda, si ispira a questi modelli. Una targa non è mai una targa, una targa è una storia scolpita nella pietra proprio perché possa durare a lungo e possa trasmettersi di generazione in generazione. E Luciano per noi è un modello, a distanza di 35 anni, un modello altissimo di abnegazione e servizio. A Foggia invece la CGL ha chiamato a raccolta associazioni e rappresentanti istituzionali con un comitato straordinario aperto, incontro che è stato voluto dopo l'attacco vandalico subito dalla sede del capologo Dauno. Un comitato direttivo straordinario aperto all'associazionismo democratico, alla società civile e ai rappresentanti istituzionali. E' quello che si è svolto nelle scorse ore presso la sede della Camera del Lavoro di Foggia a seguito degli atti vandalici e scritte offensive che hanno colpito la sede della CGL oltre che il Palazzo degli Studi di Foggia. E' stata l'occasione, spiegano dal sindacato, per un confronto sulle emergenze sociali che attanagliano una città, che somma criticità legate all'invasiva presenza della criminalità, nonostante i successi sul piano investigativo e repressivo di magistratura e forza dell'ordine e alla strutturale necessità di creare nuova e buona occupazione. Certo, dobbiamo provare a costruire una rete che possa in qualche modo arginare questi fenomeni. Peraltro nella nostra organizzazione li stiamo vivendo costantemente. Abbiamo avuto attacchi a Cerignolo, abbiamo avuto attacchi a Borgomezzanone, in tutta la Puglia, fino ovviamente, vorrei ricordare, anche l'assalto alla CGL nazionale, quindi è evidente che c'è un gruppo di persone, una sottospecie di organizzazione, non so come definirla, che mira ad attaccare le associazioni democratiche, che mira ad attaccare il sindacato, che è il luogo dei lavoratori, il luogo dal quale proviamo a difendere i diritti dei lavoratori. Credo che questo tipo di azione dia fastidio a chi ha in mente un altro tipo di società e quindi portatore di un altro tipo di cultura. Sono in corso le indagini? Cosa è emerso finora? Sono in corso le indagini, non abbiamo ancora elementi probanti, il tutto, il materiale raccolto è al vaglio della Digos e della scientifica. Ci spostiamo a Taranto, dove è stata inaugurata l'edizione 2022 della Fiera del Mare, manifestazione che per tre giorni focalizzerà l'attenzione sui temi della Blue Economy, attraverso anche un ricco calendario di eventi e di confronti con la partecipazione di personalità legate al mondo del mare. Sono un centinaio gli espositori coinvolti, però per i visitatori ci sarà anche la possibilità di ammirare gli spazi museali dell'arsenale. Una delle novità di questa edizione riguarda anche il coinvolgimento del Festival Fotografico Fest con due installazioni. L'evento, che si concluderà domenica, è stato organizzato dal Comune di Taranto, dalla Marina Militare, con il sostegno della Regione Puglia e di Fondazione Taranto 25. Restiamo a Taranto perché questa mattina c'è stata una rumorosa e colorata marcia per chiedere tutti uniti la pace. Uniti per la pace, il nome è già esemplificativo degli intenti, una marcia che ha preso le bosse alle 9.30 in Piazza Marconi, sino al centro della città, Piazza Giovanni XXIII. Tante sigle si sono associate dagli anziani ai ragazzini, le scuole protagoniste, poi una serie di sigle. Si parte da qui, ma poi si continuerà. Assolutamente sì, c'è un gran bisogno di pace, la pace è veramente la convivialità delle differenze e oserei dire che la guerra è l'emblema della stupidità umana. È bellissimo vedere persone appartenenti a espressioni culturali differenti, mondo ecclesiale, laico, commercianti, imprenditori, sindacati, storie vissuti differenti che si incontrano chiedendo a gran voce pace. Il sottofondo poi dell'inno alla gioia che è anche l'inno dell'Europa onestamente dà il senso di questa marcia. È il senso di una marcia che parte da Taranto, da una piccola città, ma che vuole raggiungere tutto il mondo. Perché queste sono le azioni che moltiplicate in ogni città, in ogni luogo, possono davvero fare la differenza per cambiare i destini non solo dell'Europa, ma del mondo intero. Dobbiamo fermare per una breve pausa, pochi istanti, e torniamo con l'informazione interregionale di Antenna Sud. Torniamo con l'informazione interregionale di Antenna Sud e parliamo delle celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona della Marina Militare dei Vigili del Fuoco, celebrazioni che si sono tenute in tutta la Puglia. Vi raccontiamo quella che abbiamo seguito a Taranto. Il Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno festeggiato congiuntamente questa mattina a Taranto la ricorrenza di Santa Barbara, patrona di donne e uomini con le stellette e con i caschi rossi un'intera mattinata con una serie di momenti. Il più importante, nella Basilica Cattedrale San Cataldo in Via Duomo, con la Santa Messa ufficiata dal Vicario Generale dell'Arcidiocesi, Monsignor Alessandro Greco, e concelebrata dai capellani militari presenti in sede. Solo per la situazione internazionale che stiamo vivendo, ma anche per soccorrere la popolazione dell'isola di Ischia. Abbiamo lì nave San Giorgio, reggimento San Marco, elicotteri imbarcati, quindi uniti insieme ai Vigili del Fuoco a tutte le altre istituzioni che sono intervenute e come diceva Monsignor Greco, non pensando alla propria vita, ma cercando di salvare la vita di chi è stato meno fortunato di noi. Per la Marina Tarantina tutta un momento ancora più significativo, quello di quest'anno, l'ultima Santa Barbara festeggiata con l'ammiraglio Salvatore Vitiello, il comandante. Infatti si appresta a cedere l'incarico. C'è un pizzico di commozione nel suo sguardo nel ricordare questi anni. Una simbiosi ancora più stretta, Marina Taranto, una città alla quale, non lo nasconde, resterà affezionato. Per me è stata un'avventura fantastica. Io sono arrivato a Taranto molto giovane, ero appena stato promosso ammiraglio di divisione e tutta questa permanenza a Taranto mi ha portato ad arrivare al massimo grado possibile in Marina. Quindi io sono molto riconoscente a questa città, alla comunità, ma proprio per le tante cose che abbiamo fatto insieme. Un'altra cerimonia di commemorazione, questa volta dei caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta a Bari per ricordare i bombardamenti al porto della città avvenuti 79 anni fa. Un ricordo che è ancora vivo dopo 79 anni e che ha segnato profondamente la storia di Bari. Nel porto del capoluogo pugliese ha avuto luogo la cerimonia di commemorazione dei caduti del bombardamento del 2 dicembre 1943. Eravamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale con la città pugliese occupata dalle forze alleate. Attentato aereo che fu compiuto dalla Luftwaffe tedesca provocando la morte di circa mille civili, altrettanti militari caduti e soprattutto l'affondamento di 17 navi cargo ed altre otto gravemente danneggiate. fu il più grave disastro nell'area del Mediterraneo che bloccò in tutto il corso della guerra gli aiuti che gli angolo americani fornivano nell'area balcanica. Il porto di Bari aveva svolto un grande ruolo nella storia della liberazione dei paesi che sono di fronte nell'Adriatico. ma il bombardamento ebbe effetti disastrosi non solo su porto ma sulla città con diverse bombe che caddero nella città vecchia in diversi punti della città vecchia fu sgombrato l'ospedale l'istituto ma ci furono tantissime vittime civili. Tragici ricordi ancora vivi nella mente di chi quei momenti li ha vissuti. Intensa la testimonianza di Mina sorella di Paolo Massari sotto capo motorista barese deceduto proprio a causa di quell'attentato. Era la speranza di mio padre primo figlio maschio quando nacque dopo tre figlie femmine svenne dalla gioia perché doveva dare il nome del nonno suo padre. Ci spostiamo a Monopoli dove ci si prepara per le festività natalizie ma in questo caso per gli eventi del periodo natalizio iniziative che sono state presentate dal sindaco nel corso di una conferenza stampa. Il Natale arriva anche a Monopoli tutto pronto per i festeggiamenti del Monopoli Christmas Home una serie di eventi accompagnerà la cittadina adriatica nella speranza di attirare curiosi dai paesi limitrofi ed anche turisti. Si parte dall'albero di Natale alto più di 22 metri che sarà acceso nel weekend seguito poi dalle luminarie lungo le strade del centro storico dai mercatini natalizi a tema in piazza Vittorio Emanuele quelli poi dell'artigianato e quindi il castello di Babbo Natale la filodiffusione una grande pista di ghiaccio per fare patinaggio ed uno spazio per attività gratuite dedicato ai bambini per delle festività da vivere finalmente con spensieratezza. Abbiamo lavorato alla Crementi in questi mesi per farci trovare pronti e siamo sicuri di aver programmato una tale all'altezza della nostra città quindi invitiamo tutti quanti a venirsi a godere il castello di Babbo Natale la pista di ghiaccio bellissima in piazza Vittorio Emanuele lo street food anche che troverete in piazza Vittorio Emanuele l'illuminare il videomapping e tantissime attività che in questi 30 giorni di Natale appunto vedranno la nostra città protagonista in tutta la regione serie di iniziative e percorsi che rientrano in un ampio programma di destagionalizzazione ossia rendere la Puglia e la stessa monopoli accessibili 12 mesi l'anno e le prenotazioni non mancano di certo indubbiamente un bel segnale in questi giorni ho sentito vari operatori turistici e mi dicono che ci sono prenotazioni anche dei B&B delle case vacanze questo è un termometro importante per tutti quanti noi perché ci fa capire che investire anche in periodi non estivi è un modo giusto per attrarre diciamo anche turisti quindi attraverso il cartellone del Natale vogliamo dare questa opportunità ai nostri operatori ma anche a coloro che verranno a visitarci di trovare una monopoli accogliente anche nel periodo natalizio a proposito di iniziative natalizie il Babbo Natale giallorosso giunge alla sua sesta edizione vediamo è aria di Natale c'è voglia di cambiamento c'è voglia di rinascita di colore ed eleganza tante sono le novità per questo Natale 2022 un Natale fatto di colori di folletti e di tante cose anche di corone quindi voglia di sentirsi un po' regina ma quali sono le tendenze per l'albero di Natale 2022 allora la richiesta più strana è portarsi via un albero già tutto decorato e la tendenza il colore che sta andando per la maggiore qual è? i colori sono i colori baita cioè il marrone il verde le tonalità dei marroni dei verdi che sono molto scuri e comunque danno il calore dell'inverno e la decorazione più kitsch è la corona la corona si sta andando molto come pinnacchio sopra l'albero non il classico puntale abbiamo visto un classico del Natale le meravigliose palline con la neve anche col carillon sì esatto vabbè quelle sono per la maggiore comunque abbiamo tutte le tonalità le dimensioni con la neve dentro con le renne proprio Natali e vanno sempre una curiosità abbiamo visto le palline di peluche di pelo anche quelle rosa rosse con Babbo Natale anche quelle diciamo che sono ecco più gioco anche per i bambini le luci sull'albero quest'anno sono in o sono out? no sono in e invece i festoni queste decorazioni molto colorate che si vedono ancora in giro oro argento rosso verde tutto insieme? assolutamente no un po' più elegante con delle ghirlande innevate con le luci calde anche fredde però ecco no festoni quelle cose sull'albero no e l'ultima curiosità l'albero deve essere verde o innevato? c'è a chi piace comunque innevato però diciamo che l'albero vero è l'albero verde andiamo a Potenza perché nel capologo Lucano è stata presentata l'associazione Centro Storico Potenza e vediamo con quale mission nasce nasce un'associazione con un principio basilare che è quello della partecipazione dal basso per mettere in rete cittadini residenti professionisti commercianti operatori in genere del Centro Storico per essere da pungolo critico e da stimolo per un progetto di rivitalizzazione e di rinascita del Centro Storico sono queste le motivazioni che hanno spinto alcuni cittadini professionisti e commercianti di Potenza a sedersi dietro ad un tavolo per provare ad analizzare insieme le principali criticità e problematiche di un Centro Storico che va sempre più svuotandosi di attività commerciali e che pecca secondo la neonata associazione di un piano commerciale ma anche di pulizia decoro e sicurezza piano commerciale viabilità infrastrutture sicurezza igiene decoro urbano vi è la necessità di riallineare il Centro Storico di Potenza e i centri storici d'Italia subiamo sicuramente un depauperamento culturale sociale di rappresentatività penso che questa iniziativa dell'associazione del Centro Storico deve essere una iniziativa apripista che si debba estendere a tutti i quartieri importanti della città il presidente ex consigliere comunale ha poi lanciato la campagna di adesione e partecipazione all'associazione Centro Storico Potenza L'associazione viene presentata oggi e oggi contestualmente si aprirà la campagna di adesione all'associazione chiunque potrà io dico dovrà partecipare da operatore o da residente del Centro Storico per dare il proprio contributo di idee a quello che deve essere il progetto di stimolo che l'associazione deve fare all'istituzione Realizzare un violino con una stampante in 3D è il progetto del Politecnico di Bari presentato agli studenti di Trinitapoli nell'ambito delle iniziative contro la glottofobia la sfida messa in campo dal Dipartimento Architettura Costruzione e Design del Politecnico di Bari è nata con un obiettivo ben preciso cercare di replicare un violino tradizionale attraverso la stampa in 3D c'è voluto un anno di studio ma l'obiettivo è stato raggiunto spiega Giuseppe Fallacara docente del Politecnico barese ospite a Trinitapoli dell'incontro con gli studenti dell'Istituto Staffa e del comprensivo Garibaldi Leone l'intento ha spiegato l'architetto Fallacara non è quello di sostituirsi alla liuteria tradizionale ma dimostrare che con la tecnologia è possibile raggiungere risultati come quello del violino in 3D non vogliamo sostituire la liuteria tradizionale classica che resterà come dire patrimonio dell'umanità ma stiamo cercando di trasferire il concetto che con l'ingegno lo studio e la pratica possono essere affrontate qualsiasi tipo di tematiche relative qualsiasi tipo di problematiche relative alla autocostruzione e la costruzione con strumentazioni informatiche digitali l'incontro tra gli studenti e i docenti del Politecnico è inserito nel progetto Glottofobia voluto dal comune di Trinitapoli e ospitato in biblioteca combattere la diffidenza dei linguaggi che non si conoscono riguarda anche la tecnologia spiega Loredana Napolitano della cooperativa Lilith Med 2000 i giovani dell'istituto staff che sono presenti quest'oggi e anche dell'istituto comprensivo Garibaldi Lione possono intravedere in questa in questa prospettiva delle una prospettiva per il loro futuro lavorativo per il nostro ultimo servizio l'informazione interregionale di Antenna Sud termina qui grazie per averci scelto buon proseguimento con la nostra programmazione rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social di Antenna Sud